Ai Pratiitivo incontri per dibattere sul turismo 4.0, rilancio delle aree interne, politiche territoriali, tendenze green e valorizzazione del patrimonio naturale con il coinvolgimento di esponenti del governo, portavoce nazionali, regionali e comunali del Movimento 5 Stelle insieme a tanti ospiti e esperti che si stanno confrontando nella due giorni di Montagna 5 Stelle. Abbiamo proprio organizzato questo evento nazionale, Movimento 5 Stelle, con una grande partecipazione di pubblico ma anche di tanti deputati del Movimento 5 Stelle abbiamo avuto 18 adesioni, parleremo di tanti temi, ieri c'è stato anche il governo con il sottosegretario Pesce e anche Sara Marcozzi, nostro candidato presidente alla regione. I temi sono tantissimi, dal rilancio della montagna, rilancio delle aree interne ma anche mobilità sostenibile e proprio turismo. I nuovi modelli di turismo sono stati presenti e saranno presenti anche in tante aziende, da Samsung, da Airbnb, anche perché il modello del turismo cambia, si usano le piattaforme web e quindi per offrire una piattaforma turistica regionale all'altezza bisogna anche essere al passo con i tempi. Un grande evento Montagna 5 Stelle per parlare di montagna, di programmazione, di turismo e appunto di inserire persone competenti nella gestione del nostro turismo. Noi oggi abbiamo organizzato anche una ciaspolata per portare anche tutti i nostri colleghi parlamentari a visitare le bellezze del nostro Abruzzo, mentre tanti sono venuti qui invece in passato a fare delle promesse poi non mantenute, noi invece siamo qui, abbiamo detto alle persone che siamo qui, ci siamo, l'abbiamo promesso e ci siamo e vogliamo realmente rilanciare la montagna e la programmazione dopo una politica completamente assente da parte di regione e di provincia. È ora di dire basta, è ora di far scoprire le bellezze del nostro Abruzzo in tutta Italia e anche in tutta Europa.